Ciao, sono Panna Blu! Benvenuti sul mio canale! Oggi faremo una ricetta velocissima con la zucca! Per prima cosa, prendete una zucca mantovana, lavatela e poi tagliatela a metà. Apritela e pulitela bene all'interno utilizzando un cucchiaio o le mani. Ricavate delle fettine che abbiano circa un centimetro di spessore. Disponetele sulla teglia da forno una vicina all'altra. Cospergetele con aghi di rosmarino fresco e con grani di sale grosso. Fate un bel giro con olio extravergine di oliva. Ora coprite la teglia con un foglio di carta di alluminio. Infornate a 180 gradi per 20-30 minuti. Sarà pronto quando farete la prova stecchino. Questo è uno snack veloce, sfizioso e gustoso. Grazie per avermi seguita! Se ti è piaciuta la ricetta, lascia un like. E se vuoi essere sempre aggiornato sulle mie ricette, iscriviti al mio canale e clicca sulla campanellina. Al prossimo video! Grazie! Grazie a tutti.